No, no, vai che non hai capito, la cena di ieri dal capo è stata qualcosa di fenomenale, eh? Se ce l'hanno di quelle bionde che non le hai mai viste nella tua vita, fidati te lo dico io, eh? No, no, non ho combinato niente, ieri non ero in serata, poi avevo sta cazzo di botta al ginocchio che mi son fatto giocando a pallone, se no vedevi che cosa ti combinavo, eh? Siedimi. Sì, sì, Roberto c'era ieri, sì, era lì in cucina, infatti sono riuscito anche a portarmi via un po' di tartine, posso farmi un altro banchetto. No, il vino era quasi finito, però sono riuscito a portarmi via un paio di bottiglie. Fuori testa. Io fuori testa, ti ho visto con i miei? Sì, ero buono. Ma guarda che non è successo niente. Guarda che puoi staspedere. Ma mi lascia almeno spiegare? Cioè? Spiegare cosa? Non c'è niente da spiegare, la situazione è chiara, non ti si può lasciare solo 5 minuti che infili la lingua in bocca a tutti. Ma sei veramente assurda, eh? Scemo io che mi son messo con te. Ma non dire cazzate, ti facevo comodo finché facevi bella figura con i tuoi amiche. Ma vaffanculo! E io che sto qua a perdere tempo con una cretina come te. Tutto bene? Direi proprio di no. Ma tu non eri alla festa di Matteo? Sì. Non ti ricordi? Sono Giulia. Ci siamo conosciuti a quella festa. Ma dai mi hai anche versato del vino addosso. Vuol dire che proprio non ti ricordi di me. Mi spiace. Io abito qui, vuoi venire da me a disinfettarti? Permesso. Vieni, vieni pure. Accomodati sul divano. Grazie. Vieni, vieni, vieni. Grazie. Niente. Hai fame? Un po' sì, grazie. Posso andare in bagno? Certo, è la prima porta sulla sinistra. Salute. Buono. Ma le hai fatte tu? Certo, adoro cucinare. Ah sì? Ha rara qualità e non uomo. Sono l'enceclopedia vivente delle rare qualità. Per esempio? Mi fa schifo il calcio e sono romantico. E tu? Io mi trovo sempre nei guai con gli uomini. Stamattina l'ho beccato a baciarsi con la sua vicina. Un dolce fiore come te andrebbe tenuto su un vassoio d'oro, neanche d'argento. Beh, forse è meglio che vada ora. Passaggio, bus, taxi, treno o camminata. Sai che ora mi ricordo di te? Però sei molto più bella. Grazie. Io sono arrivata ora. Ciao. 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 Ne ero sicuro. La borsetta, me la dimentico sempre. Ci rivediamo? Lasciamo fare al destino. La borsetta, me la dimentico sempre. 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 Grazie a tutti.